Sì, non è l'altro anno che andavamo là sotto? Beh, però sì. Dov'è? Parano su, su. No, alla piazza. Vanno là. No, alla piazza. Non è l'altro anno che andavamo là sotto? 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 No, alla piazza. 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 Alla piazza. Vi posso pure zoomar. Non so che ho paura che la batteria si scarica. No, la piazza. tu fai le foto fai le foto stanno i fotografi che si mettono davanti e io mi metto te qua vai che puoi fare grazie 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 Grazie. 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 Grazie.